Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, giovedì 29 aprile, non vi fate ingannare da questa schermata, i giocatori hanno le stesse valutazioni la settimana scorsa, ve lo dico perché altrimenti dopo si crea disinformazione e confusione, no niente da fare, come vi ho detto oggi non ci sono novità sulla valutazione dei giocatori, sono le stesse valutazioni della scorsa settimana. Fatevi dare due promemoria però, il primo è che nel blog di Pest Italia, quindi in zona community del canale YouTube Italia Top Games, trovate le quattro squadre, gli agenti squadra che saranno disponibili dal lunedì 3 aprile in Pest 2021 My Club e fatemi anche dire che oggi si può vincere Football Manager 2021 per PC e Mac con il consueto appuntamento del TG Tech. Alle 15 su italiatopgames.it trovate in anticipo la domanda che sarà fatta nel TG Tech in diretta alle 16, insieme alla domanda trovate tutti i modi per ascoltare Simpli Radio, in FM a Roma e in buona parte del centro Italia, oppure via app o via web in qualsiasi luogo dell'universo in cui voi siate. Alle 15 quindi pubblicazione su italiatopgames.it, alle 16 la trasmissione in diretta per farvi regalare Football Manager 2021 a un di voi. Io spero sempre, Simpli Radio faccio un regalo a un appassionato, ma se non partecipate non si può vincere. Eccoli qua i giocatori risalto di oggi, niente quelli della settimana, lo sapevamo, ci sono i giocatori del campionato brasiliano, che mica poi sono proprio malissima perché si parte da 91 a 86, quindi insomma certo non sono proprio quelli da 93-94, ma se qualcuno ha voglia di Brazil è un'opzione a vostra disposizione. Prendiamo subito i 40 momenti in my club che domenica, lunedì, devo assolutamente girare la gente del PSG per cercare questo benedetto Neymar. Mi prendo 24.000 GP, bene, sono stato promosso in divisione 3, sì, probabilmente ho raggiunto il mio record di questa edizione di PES 2021. Ieri col Bayern ho fatto belle partite e anche col Real Madrid. Ecco qui oggi c'è il goalball, sabato ci sarà un altro giro di pool, ieri abbiamo scoperto che purtroppo non ci sono le gente in regalo, ma i pool e oggi ci sono le icone Milan, come ben sapevate. Allora, prima volevo dare solo rapidamente un'occhiata alle challenge, non credo che ci sia nulla di nuovo perché non arriva mai niente di nuovo il giovedì da questo punto di vista, però per sicurezza diamo una guardata, se String Strength, la maledetta league challenge, al terzo tentativo ce l'ho fatta, e qui il World Wide Clubs, sì, che le sto facendo, con questi premi mi annoio, ma le faccio, assolutamente. Allora, niente, niente, ci sono le iconic moment Milan, i giocatori in evidenza della settimana del Brasile Rao, e poi continua a esserci il pool, quindi vediamo subito le icone Milan, che onestamente girerei volentieri, ma le monete sono quelle che sono, c'è un super Marco Van Basten, 18 livelli di crescita, parte da 94, 94, comportamento offensivo 97, finalizzazione 97, la velocità non è al top, ma come finalizzatore Van Basten è strabordante. Frankie Reichert, anche lui non male, non c'ha nessun azzurrino, però c'ha aggressività 90, contatto fisico 91, tanti 89 e 23 livelli di crescita. Ruth Gullit, la foto sembra di un Gullit più giovane, onestamente, molto giovane, evazione 91, contatto fisico 90, controllo palla 90, tanti 89 e 21 livelli di crescita, e queste sono le tre icone, i mitici e magici tre olandesi degli anni 80 del Milan, e poi ci sono vari giocatori di vari ordini in grado, del Milan, della Juve, del Napoli, insomma, dell'Inter, tanti giocatori della Serie A, ovviamente, è un iconic moment del Milan, ma ci sono anche tanti altri giocatori, comunque sì, molta, 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 molta Serie A. Però so bene che il 99% di voi che girerà gli iconic moment è per trovare i tre olandesi, se ancora non li hanno. Andiamo a vedere un po' questi Brasile Rao. Gabriel Barbosa, 91, con 29 livelli di crescita, insomma, mica poi tanto male, anche perché è ultrapompato, comportamento offensivo 8 punti in più, finalizzazione 8 punti in più, tiro a giro 8 punti in più, velocità, accelerazione, potenza di tiro e controllo corpo 5 punti in più ognuno, insomma, è un super Gabriel Barbosa, diciamo, è a 29 livelli di crescita con 91. Di Arrascaeta, anche lui 8 punti in più in comportamento offensivo, 8 punti in più in controllo palla, 5 punti in più in dribbling, 5 punti in più in possesso stretto, 8 punti in più passaggio raso terra, anche lui è Arrascaeta Super Saiyan, diciamo, 91. Bruno Enrique, velocità 99, 7 punti in più, accelerazione 5 punti in più, elevazione 5 punti in più, 8 punti in più in comportamento offensivo, insomma, anche lui 22 livelli di crescita, 91, niente male. Questa, giocatore argentino, parte da 90, anche lui ha i suoi momenti di gloria, perché la resistenza ha 9 punti in più, 6 punti in più in colpo di testa, 9 punti in più in comportamento difensivo, 6 punti in più in recupero palla, tutti incredible version. Rodrigo Caio, 90, 8 punti in più in elevazione, 8 punti in più in contatto fisico, 8 punti in più in comportamento difensivo. Che dire, questi giocatori sono interessanti, nulla da dire perché con questi parametri cambiati, ma dopo nella realtà non so bene quanto corrispondano. Comunque, Cassio, 22 livelli, comportamento PT, 9 punti in più, riflessi PT, 6 punti in più, respinta PT, 9 punti in più, estensione PT, 9 punti in più, presa PT, 6 punti in più. Non dico il top, ma poco ci manca. Fagner, speriamo di averlo letto bene, TD, 89, 23 livelli di crescita, anche qui 9 punti in più in aggressività e vari, 9 punti in più in recupero palla. Non male neppure lui, a questo punto con queste crescite sono straordinari, come direbbe Asaki Crozza. Gerson, 31, livelli di crescita, accelerazione 9 punti in più, resistenza 6 punti in più, passaggio verso terra 9 punti in più. Luciano, ecco, anche se cresce, qui inizia a essere un giocatore meno interessante, 27 livelli di crescita però. Gugliel Marana, 34 livelli di crescita, vari aumenti come potete vedere, un terzino sinistro neanche male. Certo, a fine aprile un po' meno, però se avete voglia di qualcosa di esotico, di differente. Claudigno, trequartista, 34 livelli di crescita, 9 punti in più in passaggio verso terra, 9 punti in più in finalizzazione e basta. Insomma, certo, non il top, ma diciamo in queste versioni Super Saiyan dei giocatori, possono essere relativamente interessanti. E oggi non c'è tanto in più, però io mi giro le mie Silver Ball e le mie Gold Ball e le mie Pool e vediamo se qualcosa di interessante esce. Devo fare altre 149 monete d'oro prima di lunedì per fare tre giri con il PSG. Per intanto andiamo di Silver Ball e vediamo che succede. Inghilterra, ho un bell'argentone, Basham, grazie, ti aggiungiamo i preparatori ESP. A me servirebbero un po' di recoprire resistenza, onestamente. Francia, ecco, questo è Neymar sicuro. Sicuro? Come no? Bahouken. Che dite? Rushford o Mbappé per sfruttarlo come preparatore ESP? Va bene. Allora, la mia Gold Ball di oggi, perché con il Pool non li dà dai giri di Pool. Col Match Day, volevo dire, non li dà i Gold. Giocatore brasiliano oggi, intanto Brasil, portiere, Volpi. E Volpi lo daremo in pasta ad Allison, anche lui brasiliano, quindi speriamo che mi renda. E poi facciamo i due giri di Pool da collezione conquistati ieri nel Match Day. Ho solo pescato 18 giocatori a voglia, quindi ne sono 450. D'altra parte, ci sono ancora 13 giorni e speriamo che la settimana prossima ci siano ancora i Pool in regalo, i giri di Pool e ci siano anche i regali. La campagna login, abbiamo detto, c'è l'indiscrezione, continuerà anche la settimana prossima. E speriamo ci siano i giri di Pool in regalo con il Match Day. Comunque, intanto facciamo questi due giri e vediamo che succede. Una leggendina, che ne dite? No, ma per carità. Inghilterra. Palla d'oro, Manchester City, vediamo. Walker. L'ho trasformato in ESP non so quante volte quest'anno. Per il momento lo teniamo. ESP, Holding e Norman. Wow. Secondo giro. No, no, mi sono sbagliato. Qua. Andiamo. Giocatore del PSG. Florenzi. Già ce l'ho. Vedrò chi. Florenzi. Già ho Palnigna e Oziacup. Ammazza. Vabbè dai, quanti GP ho? 55.000. Un giro di GP me lo pago. Vediamo se le cose vanno un po' meglio. Piano piano. Un po' di giocatori li togliamo. Vediamo. Una leggenda. Ma che, niente. Almeno Zico. Non dico Maradona, almeno Zico. Inghilterra. Vediamo. Altra palla d'oro. Tottenham. Oibierk. Oibierk. Spero di averlo letto bene. Ale. Spero di averlo letto bene. Spero di averlo letto bene. Va bene. Allora. Volevo dirvi che per oggi è tutto. Perché questo è quanto. Ho pescato 27 giocatori. 9 giri di pull. A voi a girare. Però, ripeto, ci sono ancora 13 giorni. Allora. Vi ricordo nuovamente che oggi pomeriggio si può vincere Football Manager 2021 per PC e Mac. alle 15 su Italia Top Games la domanda. Alle 16 in diretta su Simpliradio. Come sentire il TG Tech in diretta su Simpliradio? Si è scritto sempre alle 15 con la domanda su italiatopgames.it. Se ancora non siete iscritti a questo canale, fatelo subito. Perché a 7500 iscritti inizio a fare un video al giorno per spronare Konami ad annunciare PES 2022. Se volete abbonarvi al canale con soli 99 centesimi al mese, ci aiutate per le nostre spese e ci date anche un sostegno morale al lavoro che facciamo. Davvero sarebbe graditissimo. Se dovete fare acquisti su Amazon, c'è il link di affiliazione nella descrizione del video. Se non lo trovate, basta scriverlo. Ve lo mando in risposta ai commenti. Vi prometto per domani un altro filmato. Visto che sto ricevendo tante, 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 tante domande sulla partnership dei PES di Konami con il Napoli, cercherò di fare una sorta di FAQ a rispondere a tutte le domande a cui ho già risposto. Alcune non sono riuscito a rispondere perché sono davvero tante. Così magari se ascoltate questo video avrete una visione completa, un po' delle informazioni che si hanno a disposizione in questo momento. Perché alcune notizie sono certe. Altre invece dobbiamo solo ipotizzare e quindi farò questo video sperando appunto di soddisfare tutte le vostre domande, tutte le vostre richieste. Bene, io vi ringrazio come al solito per l'attenzione. Buon PES, buona ricerca delle icone del Milan. So che sarete in tantissime a girare oggi. Ci vediamo appunto domani per il video sull'accordo Napoli-PES. Ci sentiamo oggi pomeriggio se vorrete, se ascolterete il TG Tech. Oltre a vincere i premi ci sono le tre notizie più calde della settimana nel mondo dei videogiochi condensate in un paio di minuti. Quindi non è chissà quanto lunga la trasmissione ed è pregna di contenuti. E c'è un bel regalo come Football Manager 2021 per PC e Mac. Grazie come al sempre, 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 sempre per l'attenzione, per l'ascolto. Ciao.